Riempiono l'aula Nervi, i partecipanti al Congresso Mondiale delle Scuole Cattoliche. Papa Francesco parla loro a braccio, denuncia che gli insegnanti sono tra gli operai più mal pagati, mette in guardia dai rischi di una scuola per pochi, ricorda che l'educatore è un maestro di rischio, cita i contesti in cui i cattolici sono minoranza e avverte che l'educazione cattolica non è proselitismo, ma scuola di umanità. Mai fate proselitismo nelle scuole, mai. Educare cristianamente e portare avanti i giovani, i bambini, nei valori umani, in tutta la realtà, e una di quelle realtà è la trascendenza.